Salviamo il vecchio ospedale, questo è lo slogan del Comitato per il Centro Storico di Catanzaro svoltosi nei locali della Fondazione Imesse nel retro di Palazzo Fazze. Un'iniziativa in cui gli architetti Vartelfratto e Umberto Procopio hanno proiettato e illustrato immagini del vetusto nosocomio, già convento degli Agostiniani. Durante l'incontro a cui hanno partecipato fra gli altri uomini politici e professionisti intellettuali della città, è stato anche messo in rilievo che non bisogna avere paura del nuovo se si riuscirà a conservare bene il vecchio, un concetto ribadito più ripreso da molti degli esperti relatori. L'intervento si è basato più che altro a riassumere ciò che è stato il percorso evolutivo partendo dal 1750 fino al 1900 più o meno, anno di ufficializzazione, quindi il passaggio da convento ad ospedale. Abbiamo proiettato una serie di documenti che sono presenti all'archivio di Stato dove era chiaramente visibile la spesa affrontata per la conversione, si parla di circa 829 ducati. Orientativamente se si parla di ducati d'oro la spesa odierna si aggira tra gli 8 e 9 milioni di euro. Quindi una spesa importante, un traguardo importante per la città di Catanzaro che non aveva un ospedale ufficiale ma i vari reparti erano dislocati all'interno del centro storico e di conseguenza effettivamente vengono raggruppati in un'unica struttura che funge quindi da ospedale. Come alcuni hanno detto poi all'interno di questa struttura nel corso degli anni 80-90 si è formata la classe dirigente medica che poi ha dato vita al pugliese e lavorato nel pugliese. Abbiamo mostrato alcune foto perché per esempio nelle parti più basse, livelli meno uno, meno due per intenderci, è chiaramente identificabile una struttura storica datata orientativamente fra il 1500-1700. La mia voleva essere semplicemente una testimonianza ricordando alla città che personalmente per me non dobbiamo avere paura dei cambiamenti se questi cambiamenti avvengono in modo ponderato nel senso che una demolizione non vuol dire per forza scordare ciò che c'era prima ma se con il nuovo noi riusciamo a riorganizzare e ad inglobare il vecchio, tra virgolette vecchio, per creare qualcosa di più, io personalmente da tecnico ne sarei felice. Si può recuperare con un cambio di destinazione d'uso, si può fare, anche se dalle mie informazioni che sono emerse durante la ricerca è difficile perché l'architettonistico che è il rappresentante dell'ASP qua vi potrà dare maggiori informazioni perché ripeto, teoricamente questa struttura è vincolata ad uso esclusivo di pubblica sanità. Nel momento in cui decade questo vincolo la struttura, diciamo fra virgolette, viene privatizzata ma non è una notizia accurata, dovrebbe essere confermata dall'architettonistico, è una voce di corridoio. Abbiamo acceso ai riflettori su una cosa che passava ormai inosservata da decenni e che invece è un piccolo scrigno architettonico della città di Catanzaro che forse sarebbe il caso di non perdere. Certo che ci sono le condizioni per un recupero strutturale. Allora, nei social ci sono state una serie di critiche anche che lasciano il tempo che trovano ma se non ci fosse la capacità di recuperare una qualsiasi struttura in qualsiasi condizione saremmo già rovinati come professione di architetti. Dipende dal valore della struttura se si deve o non si deve recuperare e dipende dalla condizione se ne vale la pena per poterlo fare un'operazione di questo genere. Da un punto di vista tecnico la soluzione in qualche modo si trova, a un punto di fine arriviamo. Il problema è se vale la pena di poterlo fare. Secondo me ne vale la pena perché noi non siamo una città come Roma che ha risonanze architettoniche estreme, meravigliose, riconosciute in tutto il mondo. Noi siamo una piccola città di periferia che comunque ha una sua storia e la sua storia è in alcuni momenti abbastanza importanti che ha lasciato delle tracce. Noi non possiamo perdere le nostre tracce anche perché se noi dovessimo perdere tutte le nostre tracce come Catanzaro storicamente in questo scorcio di sé nel secolo scorso ha fatto su che cosa possiamo puntare uno sviluppo della città di Catanzaro sulla residenza e poi? Cioè qui chi viene a portare soldi in valuta pregiata se non abbiamo nulla da offrire? Guardi se io faccio un sogno per cercare di vedere una destinazione di questa struttura io come minimo ricostruirei esattamente quello che era il convento preesistente eliminando tutte le superfettazioni lasciando intatto il chiostro che c'è intatto sotto le varie costruzioni in cemento armato e laterito veramente di bassa qualità in vetro cemento che ha proprio superfettazioni su superfettazioni anche abbastanza banali se noi eliminiamo tutte queste cose e lasciamo la struttura storica noi abbiamo un piccolo gioiellino di architettura ecco per esempio in un piccolo gioiellino come questo se non fosse di proprietà dell'ASCO, cosa tutta da verificare perché la chiesa in quanto chiesa dovrebbe essere comunque di proprietà della città di Catanzaro se non fosse proprietà dell'ASCO io vedrei un luogo dove concentrare molte delle attività culturali che sono disperse in città e concentrando molte delle attività culturali disperse si potrebbero liberare, per esempio faccio un esempio il museo provinciale potrebbe diventare un pochino più grande se si prendesse gli spazi che in questo momento sono occupati dalla biblioteca comunale, la biblioteca comunale potrebbe andare benissimo in una struttura risanata di questo tipo aumentando anche gli spazi di fruizione ma qui ci vuole veramente un'operazione culturale più che politica per riuscire a fare una cosa di questo genere bisogna vedere se i cittadini di Catanzaro sono in grado di supportare questa operazione, questo anelito coraggioso che va verso l'avvenire la struttura è stata donata da, diciamo, non so se dalla congregazione da una congregazione religiosa come è stato per l'Umberto I o dai privati che ovviamente avevano a cuore questa parte importante che serviva intanto per il ricovero degli ammalati visto che come abbiamo, nell'escursus che è stato fatto prima sembrerebbe che anche quando funzionava come monastero aveva anche dei vani adibiti proprio alla sanità intanto è da sottolineare che se dovesse cadere il vincolo di destinazione d'uso l'immobile tornerebbe di diritto ai legittimi eredi perché ovviamente la donazione, almeno per come è scritto nelle carte rimane in piedi sempre che l'uso rimane a destinazione sanitaria ovviamente, quindi questo è un, come dire, è un fatto condizionante per quanto poi attiene anche all'utilizzo della struttura ovviamente nessuno vuole fare in modo che l'immobile torni ai legittimi eredi noi abbiamo tutto l'interesse sia storico sia culturale soprattutto di mantenere un immobile in piena efficienza destinandolo veramente all'uso per cui è stato donato cioè quello di inserire qualcosa che abbia a che fare con la sanità d'altronde sarebbe una cosa auspicabilissima proprio in virtù del fatto che di fronte c'è l'Umberto I questa struttura ha bisogno di soldi allora, se praticamente si stanzia una cifra considerevole probabilmente se ne uscirà fuori anche mantenendo e recuperando tutto quel popò di storia che c'è soprattutto nei piani sotterranei questo è uno stato attuale